Ancora una fase di deflusso per quanto riguarda gli ETF di Bitcoin e ancora una fase delicatissima anche per le quotazioni relative al prezzo. Che cosa sta succedendo in queste ultime giornate, quattro giornate di deflusso dai ETF di Bitcoin? Ho fatto un video nel mercoledì scorso dove vi parlavo un po' di alcuni dati che sono usciti fuori relativi a questa fase. L'ho trovato ovviamente nelle liste, oggi ci ricolleghiamo anche a questo video per dare una serie di spiegazioni in alcuni casi, poi risponderò anche a una domanda di un utente che mi era piaciuta moltissimo e volevo fare dei approfondimenti perché in effetti ci sono state tantissime domande su questo video e ho notato che c'erano anche delle incomprensioni abbastanza sottili che però andavano spiegate in maniera corretta. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, a prescindere poi mi ero dimenticato quando finirà questo movimento di bassista anche sui dati relativi al prezzo e soprattutto c'è una data, una zona temporale che possiamo andare a tenere sotto controllo, è una fase pericolosa, quanto durerà ne parliamo ovviamente, rispondiamo alla fine del video. Allora prima di ogni cosa andiamo a comprendere quella che è la questione legata ai ETF e quindi i primi dati, quelli relativi ai soliti dati di flusso e deflusso di Bitcoin non valorizzati in dollari ma in Bitcoin, quattro giornate negative fino a quella di ieri 21 di marzo, tutte giornate negative che tra le altre cose dimostrano anche un po' alcune situazioni. Intanto un rallentamento netto di accumuli da parte dei vari gestori degli ETF che non siano BlackRock perché anche Fidelity ha avuto un netto calo di accumulazione in questi ultimi giorni, mentre BlackRock ha continuato ad avere anche importanti volumi, per esempio c'è stata la giornata del 18 che è stata abbastanza voluminosa anche per BlackRock ma non da compensare le fuoriuscite importanti che sono avvenute per quanto riguarda per esempio Grayscale. E poi anche qui BlackRock ha un po' rallentato ma nella giornata di ieri per esempio aveva ripreso considerando però le fuoriuscite di Grayscale che per fortuna non erano ai livelli del 18 marzo, c'è stato un rallentamento. Tra le altre cose è abbastanza evidente ragionare e dire ok ma questa fase corrisponde guardate un po' alla perfezione all'andamento dei prezzi di Bitcoin degli ultimi periodi che in pratica quello che state vedendo è questo grafico qui, il grafico da approvazione ETF con fase di consolidamento iniziale, pump e poi consolidamento attuale. Guardate la questione qui ragazzi è totalmente correlata questa fase qui, quindi ovviamente in questo primo punto c'era una fase di incremento che però non compensava sicuramente magari le aspettative dei primi giorni. Poi addirittura dal 21 c'è stata una fase di decremento quindi qui invece insomma ecco dal 21-22 dal 23 è iniziata poi la fase di accumulo che comunque corrisponde più o meno a questa zona qui. Mentre in questa fase è palesemente diciamo collegato anche questo grafico. Allora è evidente insomma che se mi metto il grafico a linea potremmo praticamente sovrapporri questi due grafici sono quasi identici. Questa fattoria ci ricollega a quello che era appunto il video di cui vi avevo parlato mercoledì. È un video molto importante dove facciamo delle riflessioni molto importanti relative alla questione attuale degli ETF ma in quel video ci sono state... Io ho parlato di tante cose ma alcune cose sono state fraintese quindi voglio andare a definire quella che è la fase di risposta diciamo a questo utente perché secondo me ha fatto delle domande abbastanza interessanti. Allora bel video che fa le questioni rilevanti ma devo dire che mi ha un po' spiazzato nel senso che vuol dire che ora non c'è interesse istituzionale. Non è quello che io dico in questo video assolutamente non ho parlato che non c'è attenzione all'interesse istituzionale. Ho spiegato in quel video che ci vuole tanto tempo affinché gli istituzionali possano deliberare magari di andare a investire alcune quantità in ETF Bitcoin e due mesi non erano del tutto sufficienti. Per alcuni sì, per altri no. Quindi ovviamente necessitava avere più tempo. Tra le altre cose i dati che erano usciti fuori precedentemente noi non li conoscevamo, non li conosceva nessuno ovviamente. L'analista di Bloomberg ha tirato fuori quel dato. Intanto bisognerebbe vedere se quel dato è calcolato in maniera corretta. Noi ci stiamo fidando di quello che sta dicendo l'analista di Bloomberg. Guardate il video ragazzi di mercoledì se non l'avete visto. Quindi quella è la prima cosa. Poi non significa che gli interessi istituzionali non ci sia ben bene, ma significa che al momento non ci sono stati tanti ingressi di istituzionali. In quel video io specifico che probabilmente abbiamo avuto tanti ingressi di retail, che vi dico anche quali retail, perché anche qui c'è stato un fraintendimento abbastanza importante, e un po' di istituzionali. Quindi intanto rispondo a questa domanda. Non è vero che non c'è interesse istituzionale. L'ETF Bitcoin è un ETF che consente l'ingresso degli istituzionali, cosa che prima era molto più difficile. Questo è il discorso, quindi non c'entra questa cosa. Perciò quale dovrebbe essere la scintilla per l'ingresso degli stessi? Perciò decidere loro, in pratica, che vogliono investire in questa criptovaluta, parte di quelle che sono le liquidità aziendali, eccetera. Cose che probabilmente stanno già cercando di fare, decidendo di fare. Solo una video di lungo periodo, ma rischiosa per l'attuale totalità di Bitcoin. Siamo sicuri? Allora, qui parla appunto, ripete un po', Andrea, ripete un po' quello che ho detto io in quel video, cioè che gli istituzionali vorranno avere poca volatilità, sicuramente non tanti rischi, eccetera. Allora, la conservazione del potere d'acquisto è la cosa che mirano in primis. Allora, la seconda domanda invece è anche interessante, è se ci sono solo retails, la fase attuale è più esposta a un sell-off. In questo caso, sì, assisterebbe a una grossa fuoriuscita dagli ETF, ciò può costacolare l'aggiungimento dei target. Allora, intanto c'è da sottolineare che gli attuali retail, se sono appunto corretti i dati della lista di Bloomberg, in cui non ricordo mai il nome, se non mi pronuncio è Blackhaw, non mi ricordo, insomma. Adesso vi parlo a memoria, perché tra l'altro lo seguo anche su X, ma è bravissimo, quindi vero è. Però, vabbè, questi nomi io sono un po' smemorato. Allora, la questione è molto semplice. I retail attuali non sono quelli che siamo abituati a vedere nei mercati delle cripto. Sono altri tipi di retail quelli degli ETF, cioè sono retail abituati a fare investimenti medio-lunghi, non trading spicciolo e veloce. Non sono le balene delle cripto che tendono magari a speculare, a cercare di muovere i mercati, anche gli exchange fanno questi giochini per avere più gain nelle liquidazioni, negli ordini, eccetera. Non c'entra niente, questi retail sono retail che sono abituati a ragionare in modo da investitori anche nel settore delle criptovalute. Volevano probabilmente mettere una parte dei loro risparmi in cripto, tra le altre cose sono retail medi, non sono retail piccoli probabilmente, perché da quel dato usciva fuori che in media 13k a testa hanno messo su Bitcoin. Se anche fosse il 10%, ed è tantissimo per un investitore di questo tipo, allocare il 10% delle proprie risorse in un ETF Bitcoin, ragazzi, ragionate così, comunque staremmo nell'ordine di un retail che ha almeno 100k a salire. Quindi, ok, sempre retail sono, però sono piccoli e medi retail, non sono i retail che hanno 2k, 1000 dollari, cioè i retail quelli, insomma, un po' più veri retail, il parco buone, no? Lo chiamiamo in questo modo. Sono retail abituati anche nelle logiche a investire in un certo modo. Tra le altre cose, questo però ci porta anche a un'altra questione, che risponde alla seconda parte della domanda, la fase attuale più esposta a un sell-off. In realtà è il contrario, perché il sell-off può avvenire per questioni cicliche, per questioni di analisi tecnica, per, diciamo, emotività. Da un punto di vista del grafico, però meno istituzionali, meno capitali grossi ci sono, squali, tra virgolette, se ragioniamo in termini di old economy, no? Con la parte, diciamo, classica, si chiamano squali, non balene, meno probabilità abbiamo di assistere a questi sell-off, perché questi risparmiatori retail, che sono investitori classici, hanno meno attitudine alla parte speculativa rispetto agli squaloni istituzionali, che, se vogliono fare, fanno pesanti danni, ragazzi, non quello che abbiamo visto noi, ancora peggio, perché quelli sono gli squali, non le balene, è un scorso differente. Allora, quindi, volendo ragionare, l'attuale situazione è una fase di stallo, non è una fase in cui dobbiamo preoccuparci del fatto di... Allora, gli istituzionali potrebbero entrare tra poco, ma il concetto che passava in quel video era che ancora c'è tanta strada da fare davanti, perché, probabilmente, quello che abbiamo visto è una scintilla, quindi, se effettivamente ci sarà un adoption degli istituzionali, basta uno, ragazzi, poi segue una ruota, c'è anche un principio di riflessività umana, classica, i bias cognitivi che tutti noi abbiamo, se uno partecipa, poi tutti vogliono partecipare, anche gli iconi sono così, non c'è una differenza da questo punto di vista. A quel punto, magari, assisteremo a veri flussi, e se pochi flussi c'è, dei flussi importanti, ma comunque di molti retail, quindi non di squaloni giganti, ha innescato questa fase di Bitcoin di questo periodo, figuriamoci se incominciano le aziende a dire inizio a investire. Quindi questo dato era positivo, teoricamente. Ovvio, magari, forse, non dovevamo neanche aspettarci questa velocità, in un mese, due mesi, di accesso. Poi, alcuni mi hanno anche detto in questo video, ah, prima dicevi che c'erano gli istituzionali, ora no. Intanto, ragazzi, nessuno lo sapeva i dati, prima che i dati uscissero, no? Quindi, intanto c'è lo strumento per fare investire gli istituzionali. Poi abbiamo visto, almeno se i dati dell'analista di Bloomberg sono corretti, che gli ordini sembrano piccolini, quindi sembrerebbero non appartenere agli istituzionali, ma potrebbero anche essere tanti ordini piccoli, e qualche istituzionale, molto più probabile che sia così, per cui la media viene a metà piccolina, però in realtà qualche istituzionale magari la mano ce l'ha messa. In altro, da altro punto di vista, ovviamente, questi investitori non sono per niente uguali a quelli che abbiamo avuto, quindi comunque il concetto del retail, come lo abbiamo inteso finora, che è questo insomma anche un po' giusto sottolinearlo, cioè il parco buoi, ragazzi, cioè quelli che si spaventano, quelli che comprano sempre ai massimi, quelli che fanno gli haters delle cripto, poi arrivano e si comprano la meme coin, cioè quel tipo di soggetto, che è rimasto scottato, se la prende con voi, vi dice che fa tutto schifo, cioè allora, quel soggetto non è l'investitore retail degli ETF, sono il parco buoi, quando arrivano quei soggetti lì, abbiamo fatto i massimi, è un discorso diverso, noi gli investitori, gli investitori retail, comunque fanno parte di quella ciccia, di quella parte della pancia dell'investimento, che comunque resta, è più naturale, è più lineare, questo non vuol dire che il mercato non può oscillare, il mercato scilla sicuramente, insomma farà così, altrimenti che stiamo facendo? Adesso andiamo a vedere appunto, quello che può succedere questa settimana, però non vuol dire che non dobbiamo accoppiarli, anche se il nome è lo stesso, perché i retail della old economy, chiamiamola così, degli investitori classici, sono un po' più abituati a escursioni, e sanno un po' allocare meglio, rispetto agli investitori crypto, che magari sono un po' più deadgen, un po' abituati a follie colossali, no? Che ovviamente a noi piacciono, a tutti quanti noi piacciono, dov'è la voletta? Faccio la voletta, capisci? Vabbè, ok, è iniziata la via, ok, a posto, vabbè, allora, e quindi ragazzi, era giusto dare questa precisazione, quindi spero di aver risposto, andrà le tue domande, tra l'altro molto interessanti, e aver precisato anche quello che c'era in questo video, ragazzi, ve lo lascio qui, andiamo a capire qual è la questione legata invece, alla attuale fase di Bitcoin, Bitcoin sta chiudendo un ciclo, B mensile, barra trimestrale, questa cosa qui, è un po' pericolosetta, per questa fase, io, a dire la verità, anzi, qui voglio dirlo in maniera chiara, perché poi tanto, non cambia niente, c'è sempre quella, insomma, soggetto che va a scrivere, avevi detto che, ovviamente ragazzi, la maggior parte di voi siamo, un vuoto di gente, ormai siamo veramente tanti, ha capito bene che gli scenari vengono calcolati per prepararci, non per predire il futuro, bensì, appunto, ragionare su quello che è il futuro, però c'è sempre l'imbecille, che continua a ragionare in questo modo, che poi, se non lo sai, sono d'accordo, se ti è stato detto, e continui, allora la, te le gocce, no, esistono di, vabbè, allora, detto questo, concettualmente, quello che penso, è che questo movimento ribassista di bitcoin, dovrebbe avere i giorni contati, cioè, questa fine settimana, barra inizio della prossima, per me, per una serie di calcoli, che sono andati, che sono andato a fare, questo non significa, che io andrò a comprare in by the deep, perché, non attuo questa strategia, io sono un trend follower, e tutti gli utenti iscritti in academy, lo sanno, noi siamo fuori, da questo movimento, in questa fase, e questo potrebbe essere, anche negativo, perché non è detto, che il mercato non acceleri domani, al rialzo, ci faccia rientrare, con i nostri sistemi, le nostre strategie, a prezzi più alti, di quando siamo usciti, questo, capita, e non poche volte, capita, però, è il prezzo da pagare, per eliminare, un tot di volatilità, che purtroppo, non c'è altro modo, almeno io non l'ho trovato, nessuno che conosca, insomma, c'è riuscito, per eliminare questa cosa, motivo anche per il quale, gli holder, se il trend è rialzista, guadagnano di più, sempre di più, il problema degli holder, è quando il trend cambia, non quando il trend è rialzista, no? Quindi poi, a somma delle due cose, bisogna vedere, chi fa meglio, e chi fa peggio, però detto questo, è ovvio che, io accetterò, magari, un ingresso su bitcoin, solo nel momento in cui, questa fase, mi dimostra, a livello di prezzo, che è terminata, questo significa, che deve invertire, cioè, ci deve essere un'inversione, quindi, io mi aspetto, a livello temporale, che questo weekend, e, insomma, la prima parte, della prossima settimana, possa far terminare, tutta questa fase, perché, ho una serie di dati, una serie di indicazioni, che, insomma, mi erano, stati, cioè, secondo me, possono essere consoni, a questa fase, però, ovviamente, come in queste situazioni, bisogna sempre, per mettere il beneficio, del dubbio, non è che io posso, prevedere il futuro, a volte, siamo stati molto precisi, in questi dati, come, anche questa fase, di ribattista, eccetera, però, non vuol dire, che questo, potremmo farlo, all'infinito, sono sempre analisi, ovvio che a volte, sono giuste, perché, facciamo bene i compiti a casa, ma non è, sempre così, quindi, noi dobbiamo anche ricordarci, che ci devono essere, dei modi, che ci consentono, di poter, comunque, entrare, in quella operatività, solo, su conferme, determinate, che riducono il rischio, chiaramente, del trader, e dell'investitore, questo, è tecnica, ragazzi, non si compra, allo sbaraglio, lo so, che ultimamente, c'è una balanga, di ignoranza, che sta andando avanti, ma, su questa tematica, ma, purtroppo, dobbiamo essere noi, a comprendere, questo concetto, poi, non si può essere, in tanti, no, a saper fare la cosa giusta, purtroppo, in queste cose, e questo, per ovvi motivi, perché, se siamo in tanti, allora, non scende mai, no, è questo, è ovvio, eh, eh, ci sta, allora, detto questo, io mi, aspetto, eh, questa fase, che è iniziata, nella giornata, di questo Realzone, mercoledì, che sia, un ciclo settimanale, ciclo settimanale, da almeno, otto giorni, ci porta, a mercoledì prossimo, e, teoricamente, e lo ribadisco, per gli amanti, della, ah, tu avevi detto, teoricamente, questa fase qui, deve essere, teoricamente, ribassista, quindi, dovrebbe andare, a fare, una cosa del genere, perché? Perché porterebbe, alla chiusura, dell'intero movimento, che abbiamo visto, in questa fase, un movimento, interessante, che è, creato, a onde, in questo modo, e che porterebbe, la chiusura, anche, del ciclo, trimestrale, corto, in questo caso, di Bitcoin, ora, in questa fase qui, andremo a chiudere, il trimestrale, tra mercoledì e giovedì, quindi la prossima settimana, se è giusta, ed è, corto, il problema, infatti, che ancora il dubbio, io ce l'ho, perché è corto, rispetto ai precedenti, ma, per una serie di analisi, che sono andato a fare, in questo contesto, potrebbe essere, accettabile, una cosa del genere, anche perché, questo movimento, di ribasto, sembra fortemente, legato, alla pausa, di afflusso, degli investimenti, in ETF, cosa che potrebbe, riprendere domani, e quindi, rifar, ritornare, il Shell sereno, sul mercato, delle cripto, e su Bitcoin, però, detto questo, a livello ciclico, questa fase, sarebbe importante, sarebbe anche, teoricamente, importante, la invalidazione, di questo minimo, perché, indicherebbe, ancora di più, la chiusura, del trimestrale, minimo, che però, in questo caso, abbiamo, a 59,4, guardate bene, come, tra le altre cose, da inizio settimana, tutte quelle che erano le indicazioni, che vi avevo mostrato, nel video, di inizio settimana, dove andiamo a fare, il Bitcoin Monday, il punto della situazione, e le analisi varie, che riguardavano, il, i livelli, di, della, struttura, diciamo, di, di Bitcoin, vi avevo fatto vedere, questo grafico, il grafico, index, aspettate, qui ho fatto, un po' di macello, ve lo mostro subito, eccolo qui, a livello settimanale, dove vi indicavo, i livelli, che potevamo, raggiungere, a, in questa settimana, cosa, che è stata, proprio, quella che ha fatto, cioè, non siamo arrivati, alla parte bassa, proprio, giù, 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 però, il sell off, lo abbiamo avuto, alla rottura, di questa parte qui, e quindi è stata, fatta questa zona, ora, cosa sta facendo, Bitcoin, sta tentando, di recuperare, in chiusura, il livello, di 64,5, che consentirebbe, di non validare, questa figura, di inversione, chiamata, Evening Star, perché se noi, non rompiamo, il minimo, di questa figura, questa figura, non viene validata, quindi, teoricamente, questo sciacquone, può essere, ancora, considerato, solo, uno sciacquone, e non, un'inversione, di questo tipo, molto interessante, questa cosa, perché, denoterebbe, anche, che c'è una certa volontà, a mantenere, una struttura, ancora, rialzista, del mercato, quindi, quella, è il mio punto di vista, questa fase, potrebbe finire, la prossima settimana, a quel punto, dovremmo poi, vedere, cosa succede, quindi, lunedì, mercoledì prossimo, importantissimi, non mancate, sul canale, chi non si è iscritto, è un bar pagianni, come si diceva una volta, lasciatemi un piace, per questo video, buon weekend a tutti, noi ci vediamo, nel prossimo video, ciao!